Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto Buonasera Così Allora oggi facciamo una sfida che è presa da un altro youtuber che è Zoda Che l'ha fatta con Sodin ma che ci avete chiesto in molti nei commenti Quindi ve la facciamo anche se noi non siamo soliti appunto a arrivare a sfida di altra gente Quindi cosa facciamo? Se vi aveva di vedere passate, penso che l'avete visto tutti quel video ma comunque passateci E speriamo che vi piaccia anche questo Vedete, praticamente cosa succede? Lui ha cambiato i comandi miei, sono personalizzato B, eccolo qua Io quindi non so che comandi ho e lui ha cambiato i comandi suoi Cioè io ho cambiato i comandi di tutti E io ho cambiato i comandi suoi Il fatto è che cosa potrebbe succedere? Che ci troviamo a tirare con R2 o cazzi vari Ah mi è stato tirato R2 No, ce l'ho Vabbè, scuole Potrebbe succedere questo ecco Quindi sarà tipo troppo sbarione sarà Sì No, io voglio via Roma No, ma io vio a Roma No, ma io vio a Roma Favo Roma Inter Dai, dai, favo Roma Inter Cura Coppa America Coppa America ora A fine delle Coppa America Mi sa' un cura Coppa America Mazzate bellissimo Roma Inter Mazza, guarda che bella cosa che c'ha l'Inter L'formazione Ma sì 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 Allora, il problema sarà cominciare a giocare Perché io non so qual è il passaggio, per esempio Come faccio a passaggio? Ah, ecco Oddio Aspetta per il casino Ok, quindi si muove le brecce Per passaggio, ok, basta, vai, se ci riesce Grande, grande Un grande Cambia al quadrato, ok Un grande Oh, come si fa? Un grande Un Eeeh, che culo che c'è uno? Come si fa? Oh, cosa ti stavo ammazzato? Ok, passaggio R1 No, è R1 Che, che, come, come cazzo? Corri! Come cazzo? Ma come si tira, per amore Come si corre? Cioè Allora, L1 passa, R1 Ma non è passaggio, è passaggio miltrando R1 Ma che seria? Io non muo ricordo che il tuo messo Come fa, lo scatto? Eh, si riusciva? Buo Buo Io c'è ruolata, però non so che fa, capito? Perché non so con quale si ti, dì Quindi Provo la botta Che non c'è Non presence Non zedevé Che cooperмо Ma Aspetta dogmi Dove Folges Anche No E' Morning Ecco Io ancora non ho capito il tiro es sagittari Sì 2 Il tiro Il Devo capire come si scatta Ah eccolo il tiro Ho trovato il tiro No Non è vero niente No No Non è passata No Cioè è vero passata Come cazzo si tira No Ma quindi è triangolo questo Ok triangolo Quindi per passare Sarà Ok così Non lo so cos'è quello Aspetta Questo Oh che parla Ho capito come il tiro Ho capito come il tiro No Ma è un passaggio Ho capito come il tiro Passaggio Vai Vai Allora Io però non stavo capendo Come era la roba Stavo a correre il tuo e passo quindi Oddio Devo capire come si corre Come si corre Eh io devo capire come Cioè io non sto correndo Poco zero Proprio Ok non c'è Ma perché Ah questo qui è vero Questo qua È quadrato Ho trovato il quadrato Dai Mamma mia Mamma mia E fallaccio Porco due L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Vai così Vai così Non hai capito come si corre No Zero proprio Oddio 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 Perfetto Che traversa Dai però Mamma mia Guarda come è parte Kitaka Ho sbagliato Quanto fa il passaggio Filtrante Mannaggia a me Managgia a me Di passaggio Di passaggio Di passaggio Ha passato sia la prima che la seconda volta Sia la prima che la seconda Incredibile Juan Manuel Apri la stagione Che cosa fa? Perché si ferma? Ci provate lontano No Oddio Che scivolate di merda Sì Io voglio fare il doppio passaggio Certo Proprio Bravo Bravo Mazza Sono queste le giocate che si fanno Eh No Dai Il vantaggio per la Roma Come sempre Sì Come sempre Non riesco ancora a capire come si corre Oddio 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 Passalo Sì 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 Fuori gioco Sì Oddio Mamma mia Non si sa che cazzo hai fatto Mamma mia Lunga Nella Sì Proprio No Corri Oddio 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 Mezzo a 50 Sì 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 Oddio Ricardi Ancora non ho capito come si tira Belle cose Se pareggiamo fa direttamente i rigori Sì E che come cazzo tiro io Scusa Controvo i tasti Cioè No Ma sì Non si batte E rigori non batte Lo scopri Scoprilo Scopriscilo Scopriscilo Certo Oh ha rotto il cazzo E che caolo No i rigori no Oh i rigori comunque c'è Spingo tasti a caso Uno dovrà essere tiro Vai Tac Pronto eh Subito Come cazzo mi butto E gol Comunque mi butto uguale Vai 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 Più o meno No è caschiato il tabacco Tabacco ramacco Tabacco ramacco Che Porca puttana Che tiro di merito ha fatto Cosa hai fatto? Vedete Ah E te Ah è vero perché te hai i tassi direzionali Mamma mia questo l'ho cappellato Easy Non è vero Non è vero niente Ma andavamo sbagliati po' Troppi rigori Infatti stavo a cercare Andi Andino Andino Andinovich Andinovich Boom Avvio Sotto la traversa si vabbè ma ti mi stai guardando a tutti ma che c***o non ti stai regolà ma che c***o ma che ti stai guardà ma che ti sei in cura vai vai si non l'hai visto no l'ho visto si da me proprio proprio ahahahah eeeh no perchè ti ha buttato dell'asta da chi sei riguura no fiii fiii ultimo rigore ultimo rigore della partita ultimo rigore della partita ah che c***o ogni volta mi sbaglio a tirarlo ingredibile eeeh e vanno a vincere vanno a vincereee con tutti i tassi spastici mamma mia quest'Inter non perde mai anche oggi questo video è finito ragazzi se vi è piaciuto lasciamo 5000 like noi come sempre vi vediamo a guardare in descrizione che ci sono i link di instagram e dei c***i vari niente e proprio dei c***i eh i c***i vari ragazzi beccamo al prossimo video eeeh ciao